Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti tappeto Kashmar 151 X 104. Questi tappeti sono annodati a mano nella piccola cittadina di Kashmar nella Persia nord-occidentale, famosa per l'alta qualità dei suoi manufatti. I tappeti sono famosi per il loro esclusivo motivo Ziraki, e sono abbastanza rari oggi. Si trovano principalmente in grandi dimensioni e ricordano in taluni casi i classici Kashhan, con i medaglioni e gli angoli decorati. Lavorazione, Noted by Hand, spessore circa 8 mm, pelo, lana, ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.